Sì, c'è? Mi sentite? Senti il bunker di military? Sì, c'è il bunker di military. Sapete? Ascolta? No, è... Jack, Jack. Io ti sentivo, Jack. Jack ti sentivo prima. Ah, io houto tu. Ma come, no? Ok. Dov'è? Qui? Qui, Gadè. Qui. Ok. Nel blu. Ok. Allora, l'aereo fa sempre lo stesso giro, fa sempre la stessa tratta, meno camioncatto. E il punto di estrazione è Adam, dalla diga, sotto dove c'è il lago ghiacciato, qua sotto, dove c'è esso il pink blu. Ok. Lì c'è il punto di estrazione. Ok. Uno dei tre juggernaut casca lì, quindi. Allora, uno prende il juggernaut e l'altro dobbiamo prendere dei gran mezzi. E' impossibile. Le mandorle. Ha il carico di proteine. Quando c'ho la fotta, quando c'ho la fotta, mangia le mandorle. Allora, io sono caricissimo. Devo andare al punto di estrazione. Io vado. Oh ragazzi, ragazzi, ragazzi. Io prendo quel camion là e vado appunto e vado a junk in auto. Ci vediamo lì. Prendete dei mezzi, prendete dei mezzi. Ok, io vado a prendere la jeep. Io prenderei o jeep o camion, non i quad. Che sono più... Sporciosi. Sporciosi. poverato ragazzi. Ah, ti sei stasera di agi? Sozza? Ah. Poi comunque, se diventi zombie non ti preoccupare che... Prendiamoci da fare. Morazza juggernaut in arrivo. Prendila. Ah, non domani? Allora, loro domani ci svegliamo, fabbarizziò. Tanto cos'hai da fare? Passi a giocarci prima delle nove. Allora, dove dai sui miei cipiari da qua e dov'hai mostrino? Niente. Ma che berniere? Berniere da barboccioli. Attenzione, c'è un giungher... Guarda, il tuo è mia sorella. E io sono appunto invitato da San Pinto. Oh, che cazzo di macchina. Dava, sei scherzato, non mi hanno capato. Sì, è vero. Usciamo, rega. Vai, vai, Jack. Prendilo, prendilo. Cazzo, cazzo. Ah, no, no. Arrivo, arrivo. Dov'è? Adesso, no, no, no. Eh, non riesco il punto di un carlo. Fatto, fatto. No, ho rotto il camion, rega. No. No. Oh, che sto prendendo? No, 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 no. Preso, preso, preso. E' uno sul camion, sulla macchina. No, no. Puoi tirare su. Lo sa. No. Sì, la preso, la preso. Ma quello che è. E' due punto l'angolo. Salì, salì sulla macchina, salì sulla macchina. Vai, fatto, fatto, fatto. Via, via. E' ci vedo uno. Ah, 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 ah. Eh. Ce l'hai il camion? Ce l'hai il camion? Fa pronta. Allora sai le... Fai salire già qui il camion. Beicolo, qui. Oddio, me ce l'ha fatta. Eh, come ne vuoi be? Appiattino la piatta. Dove ti porto il cuore. Ah, d'amma, d'amma. Ah, però, cazzo, è radioattiva, la zona. Dobbiamo rimanere vivi finchè... Provo a prendere quel camion, aspetta Preso, camion nuovo, buono Via Io rega, non c'è più spunto niente Allora ragazzi, appena possibile, dobbiamo entrare... ND Abbiamo riuscire a dare un punto di estrazione appena viene fuori Non ci guardo qua No, no, ci moriamo Poccavino Mamma, ti cattivici Per via di fatto Mondo, non lo faccio, non lo faccio Non lo faccio, non lo faccio Dove hai tancido per coprire Non lo faccio Non lo faccio Vabbè, che cazzo Che c'è? Ma al di questo che lo stai procurando al minimo Mortazzo tuo Era proprio galleggi con quei camion Sì Io non so come faccio ad essere ancora in partita Sto largando Ah, mi dico quanto sto pingando Adesso è 60 NB? 300 Merda Dov'è? Sì, dov'è? No, no, scappa Via, 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 via Via, via, via Oh, no, scoperto Oh, mi stanno accennendo E' stato bellissimo Lo giro sono zombie Ed è stato salto, è morto Dio Invece quel caso dei Daggernaut, deve morire lei. Oddio, motore in avaria. Motore, è ripartito, Jack, è ripartito. Vieni, 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 andiamo, 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 andiamo. Jack, Jack, dipendi in camio, dipendi in camio, Jack, dipendi in camio. Abbiamo fatto gli zoppini, dipendi in camio. Casi io. Oh, un quad, c'è un quad, c'è un quad. Non c'era uno col quad. Si è in casa di quad, ti è in camio, cazzo. No, motore in avaria, motore in avaria, motore in avaria, motore in avaria. È ripartito, è ripartito, è ripartito. Oh, sì, sì. No, Jack, vieni, 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 Jack, vieni, Jack. No, mi devo incastrarlo. No, motore in avaria, ancora. Spara, 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 spara. Dani critici, danni critici. Nooo. Vai al punto di estrazione. Jack, Jack, vai al punto di estrazione. Salvati, salvati. Vai al punto di estrazione. Ma io ci sono qua. I zoppi ci stanno ancora addosso. No, non sono morto, sono ancora vivo. Vengo a... Ma porco, Gesù. È qua, è qua, ti difendo io, ti difendo io. Ma cosa devi fare? Ti difendo io, vai, vai, vai. Non posso difenderti, nooo, nooo. Ma cosa era? Ce l'ho fatta! Ma cosa è successo? Eh no, succede a tutti. C'è il solito video. Che accusato. È in atto il protocollo di contenimento. È in atto il percorso. Yes, ok. Ma. È in atto il video. Ah, meglio vedere proprio su Instagram. Merda! Comunque è troppo divertente. ho visto uno zombie che si è schiantato contro il camion di salta ed è matto ho visto Fabbro morire il suo morto con un camion che era ancora in volo ma ti faccio capire era una parruota c'era una parruota ma che è il senso lo so